Rubano tutto dalla paglia al ferro e poi lasciano i campi devastati. Da mesi a gela la situazione nelle campagne è drammatica. Interi raccolti distrutti dal pascolo abusivo, incendi anomali e furti di attrezzature. Soprattutto nelle ultime settimane stanno aumentando i casi di aziende agricole prese di mira da chi ha interesse a danneggiare le produzioni per ritorsione o semplicemente per ricavare qualche euro dalla vendita del ferro. Molti dei proprietari colpiti hanno deciso così di segnalare quanto accaduto. Lo fanno però in maniera anonima per paura di ritorsioni come Rocco a cui hanno portato via tutto. Quanti furti hai subito? Nell'ultimo periodo già due consecutive nel giro di una ventina di giorni. Mi hanno lasciato completamente senza nessun attrezzatore. Non posso fare più affrontare il prossimo anno la campagna che si deve fare. Non mancano poi le segnalazioni relative ai continui pascoli abusivi. Praticamente quasi nessun allevatore della zona a terreno in regola per ospitare il bestiame. Così occupano le proprietà di altri e addirittura riescono a far pascolare interi greggi in aree colme di rifiuti speciali. Il più delle volte poi devastano interi campi coltivati con danni enormi per i proprietari di aree ormai trasformate in zone franche perché evidentemente non teme possibili reazioni come racconta Angelo, un altro imprenditore agricolo. Ti sortirei in base e ti prendono pescevo. Non ti minacciano perché effettivamente come lo sanno che se ti minacciano potrebbe anche avere conseguenze. Iniziano un po' cuore, un po' cuore, a poco a poco in modo che il danno venga digerito dal coltivatore. Però a poco a poco, se poi uno si lamenta, poi il danno lo fanno completamente. Le campagne così sono diventate un grande supermercato a cielo aperto. Chi ha bisogno di qualcosa può agire indisturbato. Eppure secondo Rocco basterebbe poco per individuare i responsabili controllando ad esempio i tanti camion zeppi di materiale ferroso e paglia che circolano per le strade di campagna che per la stragrande maggioranza sarebbe merce rubata ai tanti agricoltori della città. Non ci sono nessuno controllo, le denunce vengono fatte, anche i carabinieri aprono le braccia e dicono che purtroppo la legge non ci permette di intervenire come vogliamo intervenire. Noi ci sentiamo completamente abbandonate dallo Stato. Le denunce di Rocco e di Angelo, così come quelle di decine di altri agricoltori, sono state raccolte dall'associazione antiracket gelese che nei prossimi giorni incontrerà il prefetto di Caltanissetta per chiedere interventi decisi. La paura è che senza un massiccio intervento di controllo nelle zone rurali si rischia di sostituire l'autorità delle istituzioni con quella di pochi violenti. Sono decenni che avvengono queste situazioni, oggi è peggiorata questa situazione e mi vengono a cercare, mi vengono a dire che hanno questi problemi, che hanno paura che possa succedere qualcosa di grave mentre si trovano in campagna. Infatti non è più una questione di coraggio o meno. Quanti sono quelli che fanno questo lavoro, soprattutto del ferro, che lo fanno sparire, i cancelli, le porte, le finestre, un po' tutto. Io ho visto anche case demolite, bruciate. Quindi sono convinto che qualcuno si lamenta e poi gli fanno più danno ancora. Ecco, a questo punto bisognerebbe andare a verificare in effetti chi sono quelli che asportano questo ferro, anche perché devono viaggiare e hanno questi camioncini carichi di ferro e penso che sia molto difficile individuarli. Cercherò di parlare anche con il prefetto, ho già parlato con qualcuno delle forze dell'ordine che mi danno la disponibilità, però penso che è una situazione molto più generalizzata. Quindi questo tra pastori e chi ruba il ferro è diventato un unicum che bisogna combattere.